Ciao, mi chiamo Dania e anche io sono un'egoista. Nelle relazioni mi piace soprattutto avere tutto l'armadio per me e farmi pagare la cena, mi piace molto. Poi mi piace essere accompagnata a fare shopping anche quando lui non vuole e portarlo all'IKEA anche quando lui proprio non vuole. Mi piace molto anche questo. Sì, sono un po' egoista perché quando sono a dieta deve essere a dieta anche lui. Se io ingrasso non deve mangiare nemmeno lui. Sono egoista soprattutto perché io voglio sempre preliminari e invece, come ben sapete, il maschio non è stato creato per fare preliminari, quindi diciamo che in questo sono molto egoista. Molto. E tu, in coppia, sei egoista? Egoisti Anonimi è la nuova webserie di Stop Ego by Control. Seguila anche tu. È divertente.